ciao a tutti dalla vostra marincrisi e bentornati sul mio canale oggi faremo un video che molti mi avete richiesto ovvero una creazione un regalo per la festa della mamma che sarà tra qualche giorno mi è venuta in mente di andare a creare un vasetto con dei cactus dove poter allacciare un bigliettino d'auguri e scrivere i nostri pensieri più belli dedicati alla nostra mamma naturalmente i cactus non saranno veri ma saranno fatti in gomma eva utilizzerò un vasetto come questo qui decorativo ma se voi avete quello classico marrone andate a utilizzare quello e poi magari andate ad aggiungere qualche fiorellino io avevo questo qui in casa dove tenevo delle penne l'ho svuotato e penso che sia molto carino adatto appunto a fare questa creazione poi avremo bisogno di gomma eva verde scuro con i glitter in modo tale da dare un effetto un po più ruvido al cactus e quindi renderlo sempre più realistico avremo bisogno anche di gomma eva marrone naturalmente non un foglio intero ma soltanto un pezzettino per far sì che sembra che ci sia della terra nel vaso adesso che vi ho detto tutto il materiale vi chiedo però di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto cliccate anche sulla campanella così verrete informati ogni volta che uscirà un video nuovo seguitemi anche sui social sia su facebook e su instagram e su tiktok il nome è sempre lo stesso la mare in crisi e se invece volete comprare le mie creazioni potete contattarmi sulla pagina facebook le creazioni della mare in crisi vi ho detto tutto quindi iniziamo su un foglio di carta vado a disegnare con una penna o una matita come volete la forma di un cactus in modo tale che poi quando andremo a ritagliare tutte le varie parti sulla gomma eva avremo sempre la stessa forma andremo a creare una sorta di campana e poi magari ne facciamo uno che sia lungo e stretto così e adesso vado a ritagliare iniziamo con questo pezzo quindi prendo il foglio di gomma eva questo qui con i glitter e con una penna che non scrive più ma anche con uno stuzzicadenti vado a disegnare il contorno della sagoma quindi di questo farò in totale quattro pezzi di ogni pezzo vado a ritagliare con queste forbici classiche soltanto la base per quanto riguarda invece tutto il contorno della figura utilizzerò le classiche forbici a zig zag queste qui quindi mi metterò così e farò tutto il perimetro nella figura in questo modo daremo a questa forma tonda un po di spigolosità tipica del cactus diciamo come se avessimo creato delle spine adesso lo giro e ve lo faccio vedere lo giro anche così vedete non è più liscio ma abbiamo creato un effetto zigrinato e lo stesso lavoro lo vado a fare per gli altri pezzi vedete sono qua tutti e quattro adesso prendo uno di questi pezzi e lo vado a chiudere su se stesso in questo modo facendo una piega dopodiché vado con la colla a caldo a mettere un po di colla qui lungo tutto un lato poi vado a chiudere come vedete abbiamo creato questo laterale che ricorda un po la parte ruvida delle spine del cactus la stessa cosa faccio con quest'altro pezzo quindi metto la colla a caldo e poi faccio scendere e chiudo così e come vedete se unisco questi due pezzi già inizia a prendere forma il cactus continuo a fare invece lo stesso lavoro con gli altri pezzi e adesso è facilmente intuibile che dobbiamo andare a incollare tutti e quattro i pezzi quindi uniremo questi due così con la colla a caldo quindi vado a mettere una striscia mi raccomando non mettete tantissima colla perché altrimenti uscirà fuori quindi uniremo questi due pezzi così li tengo fermi per qualche secondo e poi con la caldo vado a metterne un altro al centro così e poi infine l'ultimo che andrà messo qui e come vedete abbiamo creato la parte superiore del cactus che poi andremo a chiudere e aggiungere un fiorellino per farlo sembrare sempre più realistico se come nel mio caso qui avete una parte che si vede quindi è stato ritagliato in modo diverso dall'altra parte basta semplicemente con le forbici andarlo a perfezionare e non si vedrà più nulla vi faccio vedere non so se riuscite a seguirmi questo sarà poi posizionato così con la finta terra sotto è un fiorellino però i cactus come sapete sono bellini tanti e tutti insieme quindi andremo a continuare con le forme avevo creato questa qui lunga e quindi con lo stesso tecnica e lo stesso colore vado a fare quattro pezzi di questo anche in questo caso ho ritagliato i quattro pezzi vi faccio vedere la differenza con quello e anche questi li vado a piegare a metà e poi con la colla a caldo a chiuderli su loro stessi e anche questa forma è fatta vedete a questi due vado ad aggiungere l'ultimo pezzo non vi faccio vedere il procedimento perché tanto è sempre lo stesso troverete sotto il video nell'info box i cartamodelli per realizzare i tre tipi di cactus quindi vado a fare il terzo e poi andiamo al passaggio successivo e adesso vado a prendere il vasetto che ho scelto prendo un po di carta questo qui dei supermercati che mi servirà solo per dare volume per riempire il vasetto quindi la straccio la vado ad appallottolare vado a mettere un disco di gomma eva marrone non lo farò la stessa misura di questo perché voglio che sia effetto terra quindi almeno un centimetro sotto ho ritagliato con il compasso un dischetto di quattro centimetri e mezzo ovvero ho levato un centimetro al diametro iniziale perché voglio dare l'idea proprio che ci sia la terra e che quindi cactus siano proprio non partono dal bordo del vasetto ma dalla terra creando questo effetto qui adesso a questa vado a ritagliare un altro dischetto però questa volta in carta o cartoncino come preferite quindi metto un po di colla a caldo spero di non uspionarmi e poi la vado ad attaccare direttamente sulla carta sul fondo e schiaccio e adesso su questa posso andare a incollare direttamente la gomma eva quindi metto colla a caldo e poi vado a incollare sul fondo e così avremo creato questo effetto terra e adesso tentiamo di andarli a incollare in modo carino partiamo da quello più in fondo vado a mettere la colla a caldo qui su tutti i lati e poi lo vado a bloccare così facendo un po di pressione sul fondo poi vado ad attaccare questo e infine l'ultimo il più piccolino adesso vado ad attaccare dei fiorellini colorati così per dare luce poi come nei classici cactus li potete creare con la big shot con una fustellina o anche comprarli già fatti l'importante che siano colorati così come sono nella realtà ecco tipo questi fiorellini fatti con questa fustellina quindi prendo adesso un goccino di colla a caldo e li vado a incollare così sulla punta mettiamo questo giallo e poi vado ad attaccare anche gli altri ed eccolo qua guardate che carino il nostro vasetto di cactus questa è un'idea secondo me graziosissima per la festa della mamma basta attaccare un bigliettino qui al gancetto con tutte le parole più dolci che abbiamo verso la nostra mamma alla fine della creazione ho aggiunto i fiorellini le pietre che sono classiche nei vasetti dei cactus e poi un nastrino verde da contorno con i colori che abbiamo utilizzato ed ecco qua finito che bene pare per me è bellissima fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando mandatemi anche tutte le vostre creazioni così potremmo confrontarle con quelle mie bene ragazzi questo tutorial si è concluso e spero che vi sia piaciuto io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao